Saluto a tutti cari amici di YouTube, adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca tra il medievale e il moderno, però spostandosi verso l'estremo oriente, ovvero il Giappone, anche se pure in Cina erano famosi i ninja, ma di più i ninja erano famosi in Giappone, perché è proprio da lì che iniziano, intorno al periodo del feudalesimo giapponese, il periodo Shogun, l'età feudale del Giappone, tra il 1185 e il 1603, anche se il periodo d'oro del ninja era intorno al 1400, adesso andiamo a capire bene di questa immagine che ultimamente è molto stereotipata, Di solito il ninja viene visto come un uomo vestito di nero, con la benda che mostra soltanto gli occhi, che è velocissimo, che sa diventare invisibile, che ammazza le persone, è un'immagine molto stereotipata, anche se i ninja sono esistiti realmente, così come sono esistite realmente le streghe e i pirati, ovvero sono immagini molto stereotipate, ma c'è molto di più, ovviamente il ninja non andava vestito da ninja, così come è molto stereotipata l'immagine dell'elmo vichingo con le corna, quando invece erano soltanto i sacerdoti vichinghi ad avere quel copricapo con le corna, ma non i guerrieri vichinghi, così come è stereotipata l'immagine del vichingo, così come è stereotipata l'immagine del pirata e della strega, è stereotipata anche l'immagine del ninja, alcune cose di loro sono vere, altre sono false, ovviamente non poteva andare in giro vestito così, altrimenti sarebbe stato facilmente riconoscibile dalle vittime, siccome i ninja erano prima di tutto dei furfanti, erano dei mercenari, i ninja erano degli omicidi però a pagamento, i ninja erano dei ladri, andavano a fare i furti, il ninja era un maestro del travestimento, sapeva camuffarsi benissimo, molto spesso nei cartoni animati e nei film d'animazione fanno vedere il ninja che corre a velocità supersonica o che scompare per poi riapparire da un'altra parte, quelle sono immagini create a tavolino per dare questa immagine quasi caricaturale del ninja, quando poi i ninja avevano delle tecniche molto sofisticate per ingannare il nemico, tra cui quella di appiccare dei piccoli incendi per ingannare i soldati nemici e poi in un momento di distrazione loro entravano nei castelli e uccidevano tutti quelli che dovevano uccidere. Il ninja era anche una spia, una sorta di agente segreto che andava a riferire tutto al suo re, al suo imperatore o al suo padrone. Il ninja nasce in Giappone, i primi sono nel clan Iga, che è una prefettura di Mie, una sorta di regione del Giappone, e il clan Koga, che è la prefettura di Siga, una sorta di villaggio, che proprio là hanno iniziato l'immagine del ninja, che non era ben visto agli occhi di nessuno. Al contrario del samurai, di cui ho fatto un video parlando dei samurai, i samurai osservavano un codice d'onore. I samurai erano dei soldati apprezzati, ammirati, idolatrati, che avevano un codice d'onore, il boshido. Il ninja no, non aveva un codice d'onore, il ninja era visto un po' come un brigante, era abile nei furti, negli omicidi e nello spionaggio. C'era anche una varietà femminile del ninja, chiamata kunoiki. Le donne ninja, le kunoiki, erano anch'esse delle abili furfanti, delle abili spie, e sapevano sedurre il nemico per poi ammazzarlo. Ovviamente come si vestivano i ninja? Non così, non come vedete questa immagine qua, ma di solito erano vestiti in modo semplice, in modo casuale, come ogni singolo cittadino. Non dovevano dare nell'occhio, ma avevano delle armi sofisticate, loro potevano anche trasformare oggetti di uso comune, come ad esempio i ventagli, in armi. Ed erano omicidiali. Le armi ninja sono passate alla storia come un prodotto turistico del Giappone, ma anche del ninja stesso. La katana è la famosa spada dei ninja, che era un po' più piccola della spada dei samurai. Poi lo yumi, che era l'arco dei ninja, lo yumi, l'arco, e poi scoccava le frecce, ad altissima precisione, dato che i ninja erano anche dei cecchini fenomenali. Lo shurinek, le famose stelline che i ninja usavano ad altissima precisione per ammazzare i loro nemici, famose anche nei classici cartoni animati giapponesi o nei film. Kusarigama, ve lo metto qua, che cos'è? Allora, diciamo, il Kusarigama era una famosa arma ninja, di cui c'era una sorta di catena legata a una falce, che con quello... e c'era dall'altra estremità un peso metallico, ed era un'arma molto efficace, molto efficiente, che permette un efficacissimo combattimento sia a distanza che a corpo a corpo. I Tegaji, invece, erano dei rampini che usavano i ninja sia come arma ma anche per arrampicarsi. E altre armi, il Kusari Katabira, che poi sarebbe una sorta di armatura leggera. Questo era quell'abito nero, che di solito dà l'immagine del ninja, però usavano da sotto i vestiti. Era una sorta di armatura leggera, ma molto efficace. Kanazawa? Ah, Kanazawa, invece, è una città che potete visitare in Giappone, il Tempio Ninja Dera, il Tempio dei Ninja. Il Ninja Dera è quel tempio che voi potete visitare per... Esistono ancora i ninja. Potete insegnarvi le arti marziali, perché non è facile essere un ninja. Per essere un ninja devi conoscere le tecniche yoga, le arti marziali, lo judo, il karate e tanti altri sport e discipline orientali. Anche se i primi ninja erano semplicemente contadini o pescatori, che venivano arruolati dai nobili per fare i mercenari o le spie. Dal 1470 al 1560 è stato il periodo d'oro dei ninja. Divennero dei veri e propri agenti segreti al servizio degli shogun. Nunuzzi è l'arte di rendersi invisibili, quindi sapevano rendersi invisibili. Non è uno stereotipo della televisione. Il vero nome dei ninja era Shinobi. Inizialmente venivano chiamati shinobi, poi verso la fine dei secoli sono stati chiamati ninja, soprattutto durante il 1800 e anche durante il secolo scorso, durante la prima e la seconda guerra mondiale, di cui venivano i soldati tedeschi, così come i soldati italiani, andavano a conoscenza dei ninja, siccome erano alleati, eravamo alleati con il Giappone. Quello nel 1868, il rinnovamento Meiji, qui dà proprio l'immagine, secondo le credenze popolari di due secoli fa, del ninja che crediamo tuttora. Shinobi no momno è il nome stesso del ninja, di cui si devono rubare, astenere una persona... Ecco, significa rubare, tra virgolette, astenere una persona per estorsione. Questa è la parola esatta, Shinobi no momno, che sarebbe il ninja, coloro che andavano a rapire chi gli veniva imposto, loro non agivano mai, secondo la loro volontà, ubbidivano a un padrone, rapivano e saccheggiavano un nemico, raramente lo uccidevano. E' famoso anche il principe Shotoku, che pure loro si serviva dei ninja, per difesa personale, ma anche per difesa del popolo. Bene amici, prendete tutto quello che vi ho detto a pari di teoria o favola moderna, i ninja abbiamo capito che esistevano realmente, abbiamo capito chi erano realmente, avevo dimenticato di dire che anche i samurai potevano diventare dei ninja, soltanto quando avevano fallito, loro potevano decidere se diventare dei samurai, oppure se suicidandosi, suicidarsi con il famoso Arakiri, ok, ora riporto al video. Bene amici, ora fatevi anche voi una ricerca, mettete un mi piace se vi va, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.